Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Zelda Breath of the Wild Siamo al villaggio Finterra dove ci siamo lasciati l'altra volta e dobbiamo andare praticamente da per una al centro di ricerca di Finterra però onde evitare di dover tornare indietro dopo io faccio andare a prendere però non so se ho una torcia perché forse non l'avevo presa controlliamo esatto non ne ho ok quindi andiamo al centro di ricerca a prendere una torcia e poi facciamo il giro ad accendere anche la torcia appunto come si dice tutte anche queste lanterne qua non le accenderemo più tutte tanto non serve assolutamente a niente accenderle tutte però comunque un po' le accendiamo anche perché più che altro serve solo per nel caso dovesse spegnersi la torcia per non dover tornare fino in fondo ma a riprendere praticamente il fuoco blu da appunto una di queste lanterne ok adesso andiamo al centro di ricerca che sarà una cosa lunga il cavallo adesso può correre ok perfetto la prima non poteva correre e su lì so di sicuro so di per certo che c'è una come si chiama un una torcia ok siamo belli che arrivati praticamente la nostra missione sarà accendere questo coso qui che è praticamente quello che fa funzionare poi il meccanismo all'interno non spero che non mi partano i filmati se non devo tagliarli ecco qua la torcia quindi non ho sbagliato scartiamo questo e prendiamo la torcia però intanto che sono qua io vado anche a parlare con loro ovviamente vi dovrò tagliare praticamente tutto il tutto il dialogo perché cioè il dialogo no ma magari se fa pezzi di storia magari a parte che è una cosa lunghissima sto dialogo non so se leggervelo tutto o no io non lo leggo cioè ve lo ve lo faccio così praticamente in questo modo e se lo volete lo leggete voi se no lo fate anche perché comunque è noiosissimo quindi quindi nel caso ve lo leggete poi voi adesso ci manda da questo qua che però poi ci rimane dall'altra di nuovo ed è abbastanza noioso nel caso appunto ve lo leggete voi io nel frattempo vorrei approfittarne per fare gli auguri a Gabriella che oggi compie gli anni e quindi visto che mi segue da parecchio e mi supporta e so che è il suo compleanno appunto gli faccio gli auguri in questa occasione e nel frattempo almeno non mi faccio più la papardella alla fine vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per raggiungermi sui miei vari social dove potete contattarmi per qualsiasi cosa trovate anche il gruppo di Telegram e Discord nel quale potete unirvi per avere tutti gli aggiornamenti del canale e potete parlare anche con tutti quelli che fanno parte appunto dei gruppi dopodiché trovate anche praticamente i codici amico per aggiungermi agli amici in tutte le console in mio possesso attualmente e il link al canale di Sly86 con il quale sto collaborando in questo momento ok abbiamo praticamente non quasi finito perché c'è ancora un bel po' da star qua a parlare ed è anche abbastanza noioso come discorso quindi nel caso non ve lo taglio perché magari a voi interessa leggerlo quindi nel caso mettete il video in pausa e leggete quello che c'è scritto però lo faccio andare più veloce anche perché se no passiamo tutto l'episodio a leggere qua anche perché devo farlo di una ventina di minuti non posso farlo più lungo quindi penso che oggi faremo solo la missione di accendere le lanterne fuori e basta mi spiace ma in questo periodo non ho molto tempo di registrare come avevo già detto ho ancora abbastanza dei problemi quindi riesco a fare una registrazione così però non riesco a portarvi video troppo lunghi e neanche come vedete in questa settimana non riesco neanche a portarvi due video al giorno ma solo uno vi chiedo scusa per questo spero di riuscire a ritornare già da sabato con un episodio cioè tornando a fare due episodi al giorno invece che uno solo ok ecco che finalmente ci ha aggiornato la missione nel frattempo poi farò comunque uno speciale anche di minecraft ormai è rimandato praticamente penso a sabato perché il cavallo lo possiamo lasciare qui e andare giù a piedi dicevo ormai penso che non penso di riuscire a registrarlo in questi giorni quindi penso che sia rimandato a sabato l'episodio che volevo fare di minecraft con una specie di aggiornamento al gioco nel senso che essendo un reamed essendo che praticamente quelli che sono dentro nel reamed devono andare a scuola ovviamente durante la settimana non possono non possono entrare a giocare perché ovviamente essendo che vanno a scuola io finisco di lavorare tardi quindi non c'è possibile incontrarci praticamente sopra la settimana quindi registreremo praticamente nel weekend e viene una cosa un po' problematica portare due video alla settimana quindi stavo pensando comunque farò poi anche magari una specie di votazione comunque fatemelo sapere già magari sotto ai commenti di questo video poi ve lo chiederò anche nei commenti dei prossimi video se vi può interessare oltre a vedere il reame in cui potete comunque entrare se vi può interessare magari una serie dove gioco praticamente solo io e quindi verrà praticamente alternato su due video a settimana praticamente uno verrà fatto del video del reame e l'altro verrà fatto video del gameplay in single player mio fatemi sapere poi farò appunto questo aggiornamento dove lo dirò ufficialmente anche nel gioco nel gioco comunque fatemi già sapere anche sotto questo video se vi va se vi può piacere due serie infatti in questo modo qua praticamente due serie di Minecraft perché comunque vedo che Minecraft vi piace abbastanza nel senso che è abbastanza seguito e Mario è poco seguito intanto io sto sbagliando strada perché parlando sto andando dalla parte sbagliata quindi e anche di qua è sbagliato comunque magari buttandoci sotto di qui riusciamo a raggiungere la parte di là come dicevo quindi fatemi sapere dicevo visto che Mario siete meno interessati al gameplay di Mario e più interessati a Zelda e Minecraft quindi io praticamente non ovviamente Mario lo finirò perché comunque qualcuno interessato c'è e a me ha anche piace quindi lo finirò però vedo che essendo che siete più interessati a Minecraft magari faccio esitare faccio un episodio alla settimana solo di Mario e ne faccio 2 di Minecraft fatemi sapere appunto se vi può interessare se no invece se non vi interessa il single player continueremo con la correame e basta però appunto sarà un video solo a settimana adesso non so se nel weekend o comunque a inizio settimana e poi sta ritardando praticamente l'arrivo di Rhyme per Xbox One come vi avevo detto l'ho ordinato però me l'hanno confermato in arrivo da venerdì questo che è il 14 in teoria potrebbe arrivare e anche cioè dal 14 al 18 praticamente c'era scritto se non ricordo male comunque martedì praticamente al massimo martedì dovrebbe arrivarmi sempre ammesso che il postino si ricordi di consegnarmelo perché qua capita che praticamente mi arriva l'avviso che il postino è passato e il postino si passa ma non suona quindi però bisogna aspettare 3 giorni andare a prenderlo in posta ed è abbastanza un casino essendo che lavora la posta qua è aperta solo il mattino mi è un po' difficile poi andare a recuperarlo magari subito quindi comunque arriverà state tranquilli spero il prima possibile e niente detto questo siamo comunque già arrivati su con la nostra fiamma olimpica accendiamo ed ecco che ci segna come punto di trelle trasporto il centro di ricerca di Finterra adesso possiamo entrare e andare avanti col nostro pezzo di storia parliamo con lei di nuovo come prima non vi leggo il il testo perché è veramente lungo comunque praticamente ci dice che se vogliamo inserire le nostre i nostri pezzi in più della tavoletta shake di appoggiare il terminale ecco appunto che lo appoggia adesso vi taglio il pezzo perché ha portato la copyright ok ha finito adesso vi faccio vedere praticamente che funzioni ci ha sbloccato ecco qua appunto scatto immagini compendio di Hyrule e album adesso ci dirà di fargli una foto allora un attimo che vediamo no 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 ok ci siamo con i tasti facciamo una bella foto sperando che non si spacca l'obiettivo non so se me l'ha dato in garanzia l'obiettivo ok adesso gliela facciamo vedere ecco che dice che lei si vede bella ok adesso vi faccio praticamente vedere cosa abbiamo sbloccato come vedete è veramente molto lunga la conversazione con Pruna allora dicevo già sbloccato lo scatto immagini che è quello che abbiamo appena visto praticamente possiamo fare le foto e praticamente adesso mi sembra che sia fuori di qui facendo ad esempio la foto a questo viene vedete che viene arancione allora noi praticamente adesso facciamo una foto la salviamo e praticamente l'ha messa nel compendio adesso vi faccio vedere praticamente schiacciando magari il tasto giusto nel compendio ecco ci sono le varie pagine la pagina dei materiali il materiale 180 è il caldoncello che è il fungo che abbiamo appena scattato qua ci sono praticamente tutto quello che c'è i mostri ciò che riguarda la fauna quindi ciò che riguarda la fauna i mostri i materiali le armi che sono veramente tante e alla fine i tesori che sono solo 4 praticamente allora questo qua vi dico già che io l'ho completato nel mio salvataggio al 100% e non ci penso più a completarlo quindi se lo volete vedere completo me lo dite vi faccio vedere quello che ho completato nel nel mio nel mio salvataggio praticamente del gioco che ho finito io poi un'altra cosa che abbiamo sbloccato è praticamente l'album che adesso non ricordo dov'è è qua però devo tornare dietro praticamente questi qui questi qui praticamente sono le immagini ricordo noi una volta che ci arricchiamo in questi punti qui ci sbloccherà praticamente il ricordo che sarà un filmato della principessa Zelda che cioè dei ricordi praticamente dell'avventura che mi ha fatto 100 anni fa anche questo li vedremo però li vedremo tutti tutte le tutti le i video praticamente i filmati delle immagini ricordo li vedremo in un solo video o al massimo in due video li dividiamo in due li guardiamo tutti assieme almeno mi bloccano quel video lì per copyright non me ne bloccano altri quindi in quel video lì praticamente quel video lì bloccato da copyright voi potete vederlo e boh però almeno me ne blocca uno solo ok detto questo adesso io intanto vi faccio vedere che nel caso voi poi riandate a fare una foto al caldoncello magari quella vedete che adesso ve lo segna di blu perché praticamente quelli segnati di blu sono quelli che già avete nella vostra nel vostro compendio quindi se volete completare il compendio dovete fotografare tutto quello che c'è in giro e se avete già fotografato qualcosa vi verrà blu se no vi rimane arancione adesso io mi teletrasporto direttamente da Impa ci vediamo direttamente a villaggio Calbarico eccoci qui siamo arrivati sopra siamo arrivati al Sacrario sopra al villaggio adesso andiamo direttamente a casa di Impa a vedere cosa ci deve dire ecco fatto le guardie servono molto parliamo direttamente con lei anche qua non vi sto a leggere tutto tanto ci completa la sfida principale ed ecco che appunto comincia a darci gli indizi per trovare i ricordi ok vediamo che ci dà la nuova sfida principale ok ok adesso andiamo già che siamo qui io farei non tutte ma un paio giusto per almeno perché volevo portarvi quanto meno i Sacrari quasi tutti i Sacrari volevo fare in questo gameplay quindi andiamo ovviamente per i Sacrari qua dobbiamo come è che si dice sbloccare c'è un Sacrario che per essere sbloccato dobbiamo fare praticamente quasi tutte le mini sfide che ci sono qua nel villaggio quindi cominciamo a farne un paio adesso mi sembra che bisogna bivaccare fino a sera per fare quella delle galline ecco anche se non bisognava bivaccare fino a sera sì ok adesso troveremo qua questo qui che ci dirà praticamente di andare a cercargli le galline allora parliamo Messer Messer Link i miei cocò i miei adorati cocò non sono tornati a casa da quando mia moglie se n'è andata i cocò sono la mia unica consolazione sob wow ti aiuto a cercarli davvero grazie prego figurati i miei cocò erano 10 in tutto grazie per volermi aiutare intanto piove è ottimo quindi qua ce ne sono mi sembra già 3 ok dobbiamo trovarne altri 7 allora ovviamente questa mini sfida qui l'ho già portata sul canale tempo fa quindi se volete anche la spiegazione dettagliata su dove trovare appartemente li vediamo tutti adesso ma se volete la spiegazione dettagliata su dove trovare tutti i vari cocò trovate la spiegazione in descrizione cioè in sì sì no io devo uscire non devo parlare con te devo uscire e niente l'ho già portata vi dicevo spiegata dettagliatamente molto più di quanto la spiego adesso anche perché se no tanto vale che faccio le guide se poi faccio rifaccio le guide anche adesso non era questo tetto qui ma era questo qua allora forse esatto era questo qua difatti ci siamo incastrati eh lo so anch'io che quando piove è più difficile rapicarsi difatti piove sempre ed è sempre difficile rapicarsi sì ma se non salti ok intanto devo guardare anche quanti emblemi loro lo fai apposta quanti emblemi del tronfo ho perché nel caso parendo un po' più di stamina ok ce le fa però se scivoli anche dai link forza coraggio dai su niente da fare ok cominciamo a prendere gli altri tanto dovrebbe smettere di piovere tra un attimo qua questo qui dobbiamo entrare di notte perché se entriamo di giorno ci sarà il tipo che ci farà uscire no non passiamo di qui ma passiamo di qui e niente te ne vai dentro te ne vai dentro andare praticamente dove era quindi andiamo al massimo a riprenderla poi vediamo un po' dovrebbe esserci n'è una per di qua per di qua sotto dovrebbe essere eccola qui ok 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 eccola qui adesso adesso è smesso di piovere quindi possiamo andare a prendere quella là sul tetto che il tetto era questo qua non era quello di là dove stavo già andando di nuovo ok adesso abbiamo fatto molta meno fatica salire eccola qui solleva e ecco qua allora 3 4 3 7 ne mancano 3 ne mancano 3 allora vediamo sembra che ce ne ha un'altra per di qua ok poi ce ne ha una là in fondo se non ricordo male e poi ne ho persa una allora questa qui ok poi una ah eccola qua una qua ok poi tra l'altro fatemi sapere adesso facciamo solo questa missione qua perché poi sta venendo lungo sto video comunque paura poi di annoiarvi comunque fatemi sapere adesso sotto nei commenti anche se vi interessa fare tutte le mini sfide qua in zona prima di andare all'esplorazione di altri luoghi che dovremmo andare se non ricordo male verso il rito se non ricordo male dovremmo andare verso verso la zona di là mi sembra che l'avevamo detto così quindi fatemi sapere nel caso se volete prima di prima di andare avanti fare tutte le missioni qui le mini sfide oppure andare direttamente avanti tanto con chi devo parlare non con te ma con l'altro ah ecco ho trovato il cocco lo sapevo l'amabile sono delle loro la luce si sente da lontano non vedo l'ora di tornare a casa l'importante è che stiamo tutti bene grazie mille messi al link non ho molto da offrire ma lascia che ti dia una piccola ricompensa d'erroi c'è una rupia viola su 50 rupia comunque non male mi è tornata la gioia di vivere sono contento per te credo che se si è meccorso anche mia moglie ho capito basta la tua moglie è là basta che vai a recuperarla non è che ci vuole tanto ok quindi fatemi appunto sapere nei commenti se volete nel prossimo episodio che faccio tutte le mini sfide che ci sono qua oppure se non vi interessano le mini sfide e vi interessa andare avanti le mini sfide le faremo poi più avanti fatemi sapere io vi saluto qui vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto vi invito a scopervi al canale se volete seguire questa serie o l'altra serie che sto portando e che avrò intenzione di portare più avanti vi invito a passare dalla descrizione dove trovate i link ai miei social i codici amico delle mie varie console che ho attualmente in mio possesso e il link al canale di Slayer86 con il quale sto collaborando in questo momento io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao